Ciao a tutti Ciao Un attimo per me Ok, io ci so Ormai ci ha vinto sempre troppo bene Eh, sì, oggi non pensavo di fare decisamente meglio Magari non ripetere il tempo di ieri perché comunque in staffetta è un altro discorso Però sì, lo aspettiamo un po' meglio Però vabbè, ho preso il pass Un giorno a rente ed un giorno a pass Sì, dai, per ora va bene così Poi comunque era da tanto che non vincevo il 100 agli assoluti Quindi ho fatto che è proprio questo E se ora temiamo le prime elezioni nella quattro per me Eh, insomma, pensavo qualcosa di positivo Dopo questo 100, se riesco a arrivare in fondo, è una bella cosa Quindi non accettatevi niente Sì, esatto, sono sicuramente convocata al mondiale Quindi là sono contenta Insomma, domani c'è questo 200, che cosa ti aspetti e che cosa ci dobbiamo aspettare? Eh, vediamo No, dai, sicuramente spero di avvicinarmi comunque al mio migliore Sarebbe già qualcosa E vediamo se non vi vediamo Grazie 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 Grazie